Molti rapper della New Wave, del rap italiano, che sono venuti anche in questo studio, hanno dichiaratamente detto che loro hanno cominciato ad ascoltare rap o comunque a conoscere, ad avvicinarsi al rap grazie ai gemelli diversi. Questa cosa ti manca un po', cioè tu all'epoca non ci pensavi, perché i gemelli diversi... Perché la terza generazione è quella, la terza generazione sono quelli che non hanno più la menata di ammettere che ascoltano o che prendono come riferimento i gemelli diversi. Vuol dire che i gemelli diversi, all'epoca, erano un po' il nemico, nel rap. Sì, tutto quello che è mainstream, nel rap abbiamo questa, purtroppo questo vizio, fa parte dell'attitudine nel rap. Ovviamente sai, come dicevo prima, tutti cercano la vetta e quindi chi è in vetta finisce per essere odiato dal movimento.